Sabato 17 maggio, Andres Diamond è stato così codardo da rifiutare la mia sfida per la contesa del castello. E avviazione viva cosa ha fatto? Ha chiamato uno straniero Zulu Warrior, ex WWE. Zulu Warrior, io so perché tu hai accettato per farti bello, per farti pubblicità, ma sulla tua strada troverai me e in pochi minuti metterò il tuo culo a terra. Ti batterò, ti umilierò, ti staccherò la testa e la punterò con tutti gli altri miei trofei. E poi, dopo aver tranzato sul tuo cadavere, io andrò dritto a conquistarmi il numero uno, quello che mi spetta di diritto. Perché io sono il wrestling italiano e nessuno è duro come la noccia.